Crescono gli espositori e crescono i compratori. Per il mondo della pelletteria italiana e accessori moda arrivano buone notizie dopo due anni difficili dovuti alla pandemia e alla guerra in Ucraina. Numeri positivi snocciolati alla fiera internazionale Mipel 2022 di Milano. Franco Gabrielli, presidente di Asso Pellettieri. Siamo arrivati alla 122esima edizione, finalmente un'edizione che crediamo possa tornare ai numeri del 2019. Abbiamo delle buone notizie perché ci sono un 30% in più di adesioni da parte dei compratori rispetto alla stagione scorsa e soprattutto un 30% in più dai espositori nuovi. Quindi siamo molto fiduciosi. Per l'acquirente il marchio Italia fa la differenza. Per la produzione dell'eccellenza è sicuramente la numero uno. Ormai tutti i grandi brand producono in Italia. Per quanto riguarda le aziende a marchio proprio è proprio una questione di vivere un prodotto diverso. Il prodotto di importazione è un prodotto, a livello di fattura può essere anche fatto bene, ma ha proprio una diversità. Il prodotto italiano si vede, è vivo e quindi bisognerebbe che anche tutti gli italiani preferissero usare i prodotti italiani perché è proprio un'altra cosa. A sostegno del settore, l'Asso Pellettieri ha introdotto diverse novità. Lo spiega il direttore Dendi D'Alessandro. In questa edizione abbiamo tre progetti speciali. Italian Startup, con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di ICE Agenzia. Diamo visibilità a 4-5 aziende che si sono distinte nella loro qualità di innovatori del sistema, partendo da zero. Il settore punta sullo sviluppo delle piattaforme digitali e della realtà aumentata. Con due progetti. Il primo realizzato con Mirta, che è una startup tecnologica milanese che si occupa di mettere in rete le aziende business to consumer e oggi si è aperto anche al rapporto business to business. Secondo progetto, realtà aumentata, realtà 3D. Perché? Perché dobbiamo intercettare tutti i mezzi di comunicazione che permettono oggi di parlare alle nuove generazioni. Per il cliente, spiegano gli organizzatori, cambierà molto. Oggi il cliente chiede l'experience. La customer experience è una materia che si studia nelle business school. E ciò che è fondamentale è collegare il cliente all'esperienza. Quindi renderlo parte del sistema, nel nostro caso fieristico, ma del sistema in quanto tale. Grazie. 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 Grazie.